Aperigli! Aperigli! Eminenza, grazie, grazie tanto. Principessa, anche oggi abbiamo avuto visita di gente che vuole insegnare al Papa come si governa la Chiesa. E che ci vuole fare? C'è una pazienza. Con la pazienza si impara la scelta. Il sottosuolo di Roma è imprevedibile. Ogni cento metri ci sono importanti vestigioni. Riccardo! A Papa! A Papa! Io te apre la panza come il cassetto, sai? Ma come non è? C'era pure bisogno! E con il loro schiamazzo svegliarono i guerrieri, i quali corsero alle armi e salvarono Roma. Siamo non posso venire, ma ce la vado mi figlia! Sette soli buoni bocconi, figli tersi del melone, poco fritto del capretto, più geloso. Uno, due, tre, via! E le ragazze vanno innamorati, ma chi ci prega, ma che ci importa, si lascia il vino, ci ha messo l'acqua, e noi le dimo, e noi le fame, ci ha messo l'acqua, e non te pagamo, ma però non siamo quelli. Che gli arisponemo in coro, è meglio il vino, e di Castelli, ed è sta scorsa società.